ah eccoci qua ragazzi allora voglio fare una premessa prima di tutto mettete un like e si lo dico proprio la prima è la base è la prima cosa iscrivetevi al canale e condividete comunque a parte questa premessa chiudiamo questa parentesi e torniamo a noi allora abbiamo solo Ivan Juric il mister del farino perché il nostro calzona voi sapete lui avrebbe comunque presenziato la conferenza però il presidente ha deciso che tutte le pregare le conferenze di pregare non ci saranno conferenze a malincuore accettiamo che possiamo fare ci possiamo solo lamentare e io mi lamento comunque e come mi lamento io si sono lamentati pure quelli là quelli là che se ne sono andati a casa con due sfogliatelle hai capito di chi sto parlando sì si stanno lamentando non avete meritato il napoli non ha meritato abbiamo avuto più occasioni di rete noi e beh è quando è capitato da noi e quando vi hanno aiutato eh e quando ve le siete eh che dobbiamo dire noi eh e poi non è vero il pallino del gioco l'abbiamo tenuto sempre noi abbiamo comandato noi abbiamo noi più passaggi più più trame di gioco eh più palleggio e non quel palleggio sterile io la passa a te tu ma passa a me io la passa a te tu ma passa a me no non quello lì e vabbè calzola ha detto pur dobbiamo essere più dobbiamo esticalizzare di più eh però ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo comunque per tutti quelli là che gli brucia ancora la sconfitta vi consiglio un uomo medicinale antidolorifico che trovate in tutte le farmacie, la sopposta Raspadori, a parte questa battuta, comunque domani non ci sarà Cayusti e non ci sarà neanche Gonge perché stanno ancora, non sono al meglio della loro condizione e probabilmente anche Romani, anche se sta recuperando però probabilmente non verrà ricicliato anche perché poi come sapete martedì abbiamo il Barcellona, cioè noi ci abbiamo, dobbiamo andare a Barcellona, quindi conserviamo le forze, anzi ho sentito che Xavi già sta facendo il turnover, loro ci tengono molto alla Champions, lo sappiamo, quelli vivono solo per la Champions, anche per il campionato, però comunque la Champions è che ne hanno vinte di Champions, comunque si prospetta praticamente forse dal primo minuto Piotro e Mario, il professor, il maestro, Rui, perché sappiamo che Olivera probabilmente verrà utilizzato di più contro il Barcellona perché ha più fisicità, ha più gamba il ragazzo e quindi, oppure farà una staffetta, non si sa, comunque teniamocela per noi queste cose qua e che dire poi ragazzi, ultimora il presidente in merito allo stadio ha detto perché lo vuole fare a Bagnoli, secondo me non a tutti d'orca, a parte che quell'area lì che è stata bonificata in via di bonificazione, comunque si renderà molto libera, poi comunque rimane proprio nel centro di Napoli e poi è raggiungibile da mezzi pubblici e quant'altro e poi comunque, perché il problema è questo, che se deve ristrutturare il Maradona doveva giocare in Napoli, cioè a Bari non è possibile, e poi sarebbe troppo lontano per i tifosi, perché queste sarei prospettate addirittura in Palermo, Catania o Bari comunque, è impossibile, cioè ogni partita sarebbe un'altra scelta, e no, non si può fare. Si è offerto anche lo stadio di Benevento, ma sembrerebbe che UEFA non dia approvazione, quindi non è uno stadio certificato per la UEFA e quindi le partite europee dove le giochiamo. A Bellino, stessa cosa, quindi allora lui cosa dice? Continuiamo a mantenere il Maradona, nel frattempo facciamo lo stadio a Bagnoli e poi quello sarà anche lo stadio per gli europei, e quindi praticamente salviamo Capre e cavolo. E poi lui ha detto, sì, con gli ingegneri e con gli architetti per ricostruire lo stadio, è più facile farne uno nuovo e anziché ristrutturare questo, anche perché poi comunque gli spettatori sarebbero troppo lontani dal campo di gioco, pur se togliamo l'atletico, comunque restano gli spalti troppo distanti, quindi non si avvice a uno stadio moderno di calcio, e quindi è meglio rifarlo, così noi saremmo proprio, cioè quei calciatori saremmo proprio vicini, 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 eh? E comunque, e queste praticamente sono le ultime, poi c'è sto fatto della controversia, no controversia, ma comunque possibilità di fare casa alla UEFA per dire che il rating di quelli là deve essere abbassato, così come è stato penalizzato in campionata, deve essere penalizzato anche a livello europeo, e quindi ci andiamo di diritto noi, anche se poi, se superiamo il Barcellona, abbiamo meriti, ce lo meritiamo, e andiamo, poi, eccetera. Per quanto riguarda invece la qualificazione Champions di quest'anno, a parte che se la vinciamo ci qualifica, però diciamo che sia un sogno, eh? Mentre per quanto riguarda il quarto posto, se vanno bene le squadre, tutte le altre squadre europee, di cui anche il Napoli col Barcellona, in campionata, comunque, se tutte le squadre europee continuano a andare avanti e fare il risultato, aumenta il ranking UEFA italiano, e quindi, anziché quattro squadre, avremo cinque squadre in Champions League, quindi aumentano anche le possibilità che noi ci possiamo qualificare, anche se lì, adesso è occupato da Bologna, Roma, e c'è l'Atalanta, entro queste squadre, ma da dove sono uscite? Comunque, vabbè, comunque, andiamoci a sentire a Juric, poi facciamo un commento finale, in base a quello che avrà da dire mister Ivan Juric, eh? Voi, mi raccomando, nel frattempo mettete il like, ok? Vai Juric, vai! Contro la Fiorentina, nonostante l'inferiorità numerica, è arrivata la tredicesima partita in campionato senza subire reti, le chiedo se in un momento come questo, in cui bisogna far fronte alle tante assenze, quanto l'aiuta invece a fare affidamento su un reparto difensivo, questi numeri? Non è reparto difensivo, penso che la squadra lavora bene, cioè in senso lavora bene, c'è un'altra caratteristica chiara che secondo me hanno una voglia di non prendere gol, un spirito, però c'erano anche situazioni, analizzando contro Fiorentina dove in tre magari uscivano su un tiro, proprio tu vedi la voglia di non prendere gol, questa cosa qua sicuramente non bisogna mai perderla, è la base di successo. Domani affronterete un Napoli sicuramente differente rispetto alla gara di andata e che sta vivendo poi la terza fase del suo campionato, che gara si aspetta dai ragazzi di Mister Calzone? No, li ho visti meglio in un certo senso, penso che sono tornati di lavorare su concetti che conoscevano e stanno venendo dalle belle prestazioni e sarà dura come sempre a Napoli, tanti episodi saranno determinanti. Grazie Mister, lascio la parola ai colleghi. Ciao Ivan, senti una cosa, Tamese e Voivoda sono recuperati e ci sono, ci dice un po' la situazione No, Tamese no, Tamese ci vuole ancora e Voivoda sì, Voivoda diciamo si è sbloccato, ha fatto due allenamenti con noi e entra come un'opzione, c'è un po' di tempo dove non ha potuto lavorare però è completamente recuperato. Ecco, in base proprio a questo, visto che a centro campo ti rimangono solo Linetti e Gineitis, nel caso, tutti ci auguriamo assolutamente che non gli venga neanche un prurito al naso, però nel caso tu durante la partita per qualche motivo dovessi sostituire uno dei due, cosa fai, non so, passi la difesa a quattro, aggiungi un difeso... Gioco a chi? No, dico... Non mi ga male. No, dico, non so, prendi un difensore e lo metti a centro campo, arretri Vlasic, non so, che soluzioni hai studiato? Penso che abbiamo Nixi che eventualmente può fare questo, abbiamo anche Voivoda che ha fatto una partita in nazionale ultima da centrocampista perché anche loro erano in emergenza, poi magari per la posizione anche di Nicola, cioè stiamo provando molto il ragazzino Sava dalla primavera e secondo me è un ragazzo non pronto in un certo senso, però competitivo e ci può dare una mano. Buongiorno Ivan. Buongiorno. Volevo chiederti una cosa un pochino più generale, cioè si può dire che a livello di... L'altra volta abbiamo detto, ed è sotto gli occhi di tutti, no? Che il Torino ha alzato il livello di qualità di gioco. Ecco, allargando il ragionamento alla tua carriera, no? Pensando anche a Verona, perché spesso tu parlavi all'inizio che volevi arrivare anche a livello di gioco a quel tipo di annate, è il momento migliore della tua... Cioè è la tua squadra migliore a livello di... come espressione di gioco questo Toro, ma il Toro di queste ultime settimane. Penso che ci mancano risultati, sinceramente, per dare un giudizio positivo. C'era un momento a Verona che comunque queste partite, come altre, le vincevamo, no? Mi ricordo, Juve, in casa, dove facevi questo tipo di prestazioni, però poi trovavi anche risorse o quelli particolari che ti portavi a vincere le partite contro squadre, in teoria, superiori a te. Come livello di gioco? Cioè, mi dispiace molto, perché penso che squadra, pian piano, è arrivata, dopo un inizio così così, è arrivata con cambiamenti, ha un'espressione di gioco molto alta, no? Per dire siamo soddisfatti, dovevamo fare risultati, e ci è mancato sempre qualcosina, quello che hai sottolineato a te anche l'ultima volta, quelli dettagli, magari piccole cose, che non ci hanno permesso di chiudere il cerchio, dire, cioè, li abbiamo portati là, giochiamo benissimo, però anche siamo vincenti. In questo momento ci manca questo. Poi, due piccole curiosità, una su Gineitis, no? Bene o male, cioè, la sua storia parla di un ragazzo che comunque ha debuttato al primo minuto a San Siro, quindi è uno stadio importante, importantissimo, stessa cosa all'Olimpico e ora al Maradona. Però stavolta è un po', diciamo, programmata, no? Vista la necessità, eccetera. Ecco, l'hai visto diverso e pronto a livello di personalità, perché magari un conto è trovarsi nelle ultime ore, più o meno, sapere di giocare titolare, invece adesso lo sa, diciamo, dalla scorsa partita. No, io penso che è un ragazzo che, io penso che possiamo costruire un buonissimo giocatore, cioè che ha determinate caratteristiche giuste, magari non eccelle in certe situazioni, però ha una grande capacità di apprendere, di lavorare, di crescere all'inizio, però secondo me con il tempo, non volevo darlo a prestito proprio per lavorarlo giorno per giorno e secondo me ha presupposti di diventare un ottimo giocatore, questa è l'idea. Adesso è normale che fa prime sue partite, quello che dici te, anche no come sorpreso uno, ma sicuramente adesso avrà anche più continuità e vogliamo costruire un giocatore per Toro, per futuro del Torino. E ha questa caratteristica, secondo me, come buongiorno, diciamo, di voglia di apprendere, cioè di sfruttare ogni allenamento per migliorarsi al massimo, ascolta molto e sul suo futuro sono molto fiducioso. E poi l'altra curiosità, non ti chiedo se credi o meno, credete o meno ancora alla corsa, te l'abbiamo chiesto l'ultima volta, però volevo chiederti, cioè, per, diciamo così, riaccendere, no, anche a livello, l'autostima c'è perché è il gioco che te la dà, però per riaccendere un po' questa corsa per l'Europa, visto che appunto mancano sempre meno partite, cioè, quanto è importante la partita di domani? Cioè, non serve un colpo, un colpo ad effetto per poter poi magari... Sì, 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 sono d'accordo con te perché, cioè, le prestazioni sono di livello altissimo, non abbiamo ottenuto risultato per varie situazioni, errori individuali, l'ultima partita è andata così, dobbiamo fare qualcosa di speciale, cioè, secondo me, squadra quando arriva in questo momento, cioè, quando giochi così, devi avere obbligo quasi quasi di non molare niente, cioè, tipo, di credere veramente, no, di... in quello che fai, in dati, quello che produci, cercando di eliminare errori, però, tipo, come un po' sfidare la vita, fortuna e dire, cioè, ci girerà e poi magari anche le partite che sei sotto vinci, no. A noi in questo momento penso che siamo superiori ad altre squadre come espressione di gioco, ma non riusciamo a fare punti, ci vuole il colpo, assolutamente. Buongiorno, mister, ho letto che siete la squadra che nei top 5 campionati europei ha fatto più 0-0, 6. Volevo chiedere cosa pensa di questo, perché c'è chi diceva che lo 0-0 è una partita perfetta, perché vuol dire che non si sbaglia niente nella squadra o nell'altra, però lei cosa pensa? C'è una cosa che... che è un dato che cosa le fa pensare? No, cioè, mi fa pensare... cioè, in una grande organizzazione di gioco, di tutto, e sicuramente di qualcosa che manca in attacco. Cioè, le grandi squadre vincono 1-0, non 0-0. E penso che noi, se andiamo a analizzare veramente anche l'ultima partita o altre, cioè, c'è tante cose positive, però manca quella cosa là di diventare più forti, no, di vincere queste partite anche 1-0, no. Da una parte è contento per 13 clean sheet, 0-0, tutto così, d'altra parte c'è questa malcanza di, anche altro giorno, di fare il gol e ci sta massacrando, no, perché sono tante partite ormai dove tu crei 3-4-5 e ogni tanto concedi un tiro e ti va male. Per cui bisogna alzare il livello di attacco, questo è sicuro. Mister, buonasera, Alessandro Barretti. Buongiorno, Alessandro Barretti, tutto sport. Volevo chiedere come cambierà la partita di Napoli per la squadra e per lei in virtù della squalifica e se ritiene congrua la squalifica appunto di due giornate, grazie. Come scusami? Se ritiene congrua, se ritiene... No, no, prima, prima domanda. Come cambierà per la squadra e per lei la partita di Napoli, per lei che non potrà vivere in panchina e la seconda e se ritiene congrua le due giornate? Ma no, la partita si prepara sempre uguale, no, cioè tipo, non è che ti cambia molto, poi penso che tutto il mio staff è molto... cioè lavoriamo tanti anni insieme e pensiamo in modo uguale, no? Penso che non... cioè nella partita non si nota una cosa così. L'importante è prepararla, dare dettagli particolari, tutto così. Penso che devo ringraziare sia italiano sia direttore di Fiorentina perché penso che loro hanno capito che le mie reazioni in quegli momenti sono pura foga e non c'è cattiveria. Penso che sono stati molto gentili con me, no? Perché ci conosciamo da anni e sanno quello che sono, no? Cioè poi in quegli momenti evidentemente c'è da imparare tanto di riuscire a gestire questi momenti e non passare a parte dove sono passato io. e la squalifica mi sembra generosa. Cioè generosa perché ero diffidato, espulso, generosa per il fatto. Ringrazio, cioè veramente sia italiano sia pradè perché hanno capito bene il momento e sanno come sono fuori dal campo. Buongiorno, tornando invece sempre alla partita contro la Fiorentina volevo chiederle se il fatto che dopo le polemiche arbitrali che ci sono state, il fatto che domani ci sia un arbitro come il Stato che è uno dei top anche a livello europeo la rassicura, la soddisfa? Poi faccio un'altra domanda. Ma no, io normalmente non so neanche chi arbitra cioè raramente mi informo là. Penso che anche loro sono messi sotto pressione specialmente con l'evento di VAR che io sono pro però veramente si sta analizzando ogni cosa e a volte li vedo che cioè comunque che stanno perdendo un po' gusto di arbitrare questa è la mia sensazione che hanno paura di certe situazioni. Poi altra volta secondo me il gesto di Ricci che sono stato curioso poi sono andato a contare tutte le partite ce l'ho visto una sessantina anche durante la nostra di Zapata, 7-8 di Bologna, Atalanta tantissime c'è tante situazioni dove un giocatore alza le braccia a protesta senza offendere perché Ricci non ha detto niente e passano inosservate questa volta è andata così come sbagliamo noi sbagliano loro bisogna essere più calmi magari accettare però non è neanche facile preparare così tutto in dettagli e poi una situazione così ti cambia ti cambia la vita perché per noi questa è la vita per altri divertimento per noi è la vita e invece mi rifaccio a quello che diceva prima sull'attacco le chiedo se visto le difficoltà che ci sono anche un Sanabria che non è in un momento di particolare forma sta pensando a qualche cambiamento per il Napoli magari con Pellegro che è al fianco di Zapata dobbiamo vedere oggi allenamento dobbiamo pensare è chiaro che Tony è un momento che abbiamo contato 9-10 pali gol tra due pali occasioni dove non è brillantissimo dove vede la porta piccola e magari l'anno scorso ultimi quattro mesi quando ha fatto il record dei gol ce la vedeva molto grande sicuramente siamo penalizzati un po' su queste cose Buongiorno Minister Davide Lessi Rai TGR Piemonte la mia domanda in realtà era quella del collega che ha appena fatto su Sanabria ma invece allargandola un po' ovviamente Zapata ha portato tanto al toro quest'anno può avere fatto ombra non so non far sentire più Sanabria al centro dell'attacco del toro può essere una delle cause anche psicologiche o è più fisica la questione? No, fisicamente sta bene cioè io vedo anche io sarei molto preoccupato se lui non entrasse cioè se uno non entra in occasione allora non arriva non è pronto non è lucido cioè mille cose quando uno come lui cioè se andiamo a analizzare tutte le partite è sempre dentro le occasioni e allora è quel momento di attaccante che sbaglia poi Zapata io cioè nella mia carriera diciamo non ho mai avuto giocatori così cioè anche se ha passato due anni difficili per vari fortuni tutto così cioè giocatori di questo peso io nella mia vita non li ho avuto sta facendo benissimo e non credo che influisce negativamente su Sanabria perché sono due grandi amici cioè passano tutte le giornate insieme condividono penso che anche si trovano bene giocano bene il problema è solo cioè anche a Tony ho detto anno scorso era un momento così così poi fai vai in panchina fai gol all'Empoli di sinistro fuori dell'aria e allora ti sblocchi fai altri nove cioè perché in quel momento ha fatto pochissimi gol no? e fai il record io sono convinto in quello senti ma analizzando tutti i numeri della carriera di Sanabria Sanabria è quello che per caratteristiche proprio generalmente come giocatore come lo ricorderemo fra vent'anni quando smetterà di giocare sarà un giocatore ricordato per quello che la porta la vede molto grande o che la vede molto piccola? non lo so penso che lui è un giocatore che comunque l'anno scorso ha fatto il record qua cioè il 12 mi sembra sicuramente un giocatore che ha un po' di tutto che lega che riesce a fare gol però rimane il fatto di questo periodo secondo me veramente anche anche della sfortuna cioè tipo il pallo di Napoli il pallo di Lazio parata di quello di Lecce altro giorno due cioè a Cagliari altre due uno di te cioè sono tante occasioni vuol dire un ragazzo che entra in occasione che sente il gol che ha fiuto del gol ti fa giocare bene anche e in questo momento è meno cioè meno cattivo cioè porta piccola porta grande non lo so io spero che ancora sono tante partite che questo ragazzo come l'anno scorso Tony riesce a fare gol anche difficili perché l'anno scorso ha fatto qualche gol anche difficile bene bene se non ci sono altre domande possiamo abbiamo ancora una domanda qui sì velocemente sugli infortunati non ci sono novità dell'ultimo momento sono fuori quelle che sappiamo già c'è il lovato dovrebbe essere per la prossima Tame dopo basta sì Illich che adesso ha questo problema che sarà lungo no si vede cioè dipende come reagisce su certe cose però sarà comunque più di un mese mettiamolo così un mese in avanti giocatori come Ozyman Cravastareia e quanti altri nel Napoli come si fermano? come li vuoi fermare? no sono sono fuori classi lo sappiamo e devi devi lavorare molto bene sulle posizioni sul il limitarli no i loro pregi e speriamo di fare bene non è facile perché sono sono campioni come Dybala a volte fanno cose che determinano fuori dalla normalità speriamo di essere molto concentrati molto vicini uno con l'altro e riuscire a fermarli concludiamo qui la conferenza stampa ringraziamo e salutiamo mister Iuri ragazzi allora si è conclusa la conferenza avete visto hanno molti infortunati c'è da dire però comunque hanno una rosa abbastanza completa e quindi hanno i sostituti quello che voglio dire mi ha detto è certo è una squadra differente da quella che abbiamo affrontato in casa infatti abbiamo perso la Pazzarri era nella piccionaia non era neanche panchino che poi se era in panchino non lo so di quanto avrebbe potuto influire su un risultato diverso non lo so sta di fatto che siamo passati da Pazzarri a Calzone calzone pensate ha detto che quando ha saputo che veniva a Napoli ad allenare a Napoli a fare l'allenatore amma mia ha detto che hanno leggiato la macchina per venire a Napoli si trovava in Calabria la famiglia ha detto che appena è arrivato sulla taggenziale ha aperto il firenestino ha messo la forza va resta fuori adrenalina pura ha detto ha detto che si è arrecriato ma praticamente stava là tutto euforico non vedeva l'ora di mettere mano alla squadra quindi questo è uno che ci tiene ha detto che il padre ha sempre visto Napoli ha sempre seguito in Napoli quindi spero che sia anche un tifoso del Napoli ha detto adesso non è che mio padre guarda in Napoli solo perché ci sono io lui la vedeva anche prima quindi immaginiamo che siamo perché noi siamo la squadra del sud e tutti dico tutti i quichesi i siciliani i calabresi gli abruzzesi vabbè forse gli abruzzesi no ma i i i molisani i laziali no perché loro hanno una cosa la laziale la basificata comunque la basificata almeno la basificata e la campagna tutta dovrebbe essere un solo grido forza Napoli forza sud perché noi rappresentiamo il sud comunque a parte questa un'altra cosa che c'è da dire loro diciamo stanno messi una squadra tosta fisica sono tutti 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 tarchiati sono dei pustacchi ma noi di tecnica noi adesso abbiamo la tecnica anzi ce l'avevamo pure prima però l'abbiamo terza adesso la stiamo ritrovando la tecnica la tattica i schemi di gioco le manovre abbiamo tutta una serie di cose che possiamo aggirare qualsiasi ostacolo e comunque domani domani sera saranno battaglie perché questi cong cercheranno di 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 scassare ma noi invece sfonderemo le reti poi un'altra cosa Iuric stavolta tocca a lui non essere in panchina si è beccato due giornate di disqualifica l'ho visto fare il parkour quando è stato disqualificato è stato buttato via col cartellino rosso è uscito praticamente dal campo e dopo si è messo a scavalcare la riguiera è andata sugli spalti il coraggio che ha questo allenatore la forza è un po' anche di inconscienza c'è da dire perché alla sua età insomma deve stare un po' attento e comunque si è accaduta bene poi un'altra cosa che adesso dimenticavo di dire indovinate un po' chi hanno mandato ad arbitrare domani chi allora uno che avrebbe bisogno degli occhiali un certo orsato che lui da vicino non ci vede da vicino lo vede solo da lontano da lontano si mette così come gli indiani arbitra così e quindi si dovrebbe mettere praticamente sugli spalti si dovrebbe mettere in tribune invece no sta in campo e poi sopra sopra vabbè sopra stanno lì solo quindi altro che sopra l'altra parte dell'Italia praticamente al bar Valeri fra i due mi fido più di Valeri e questo è tutto dire e questi questi non vedono questi non sentono però poi voglio vedere non voglio fasciarvi la testa prima di spaccarmela voglio vedere come va a finire comunque io dico occhio occhio fidarsi è bene non fidarsi è male perché orsato dovrebbe diventare il nuovo designatore e Rocchi poi dovrebbe diventare il presidente non so che cosa dell'I.A.R. avete capito bene questa fa una carriera però intanto a proposito ma quell'arbitro in incognito che aveva detto le cose non si sa non si sa più niente poi c'è Calvarese che ha detto che ha fatto un errore a dare quel rigore alla Juve contro l'Inter quel rigore che ci ha penalizzato a noi e noi non siamo andati in cemino ci sono andati loro quelli là ci sono andati e hanno potuto raccogliere pure i punti nel Raking UEFA e adesso loro vorrebbero andare pure al Mondiale del Club lo devo dire meglio che non lo dico facciamoci un tuo capo noi queste cose ce le scrolliamo di dosso noi amiamo solo una squadra il Napoli azzurro sangue azzurro come il cielo come il mare come le anime buone candide azzurro comunque ci vediamo domani sera domani sera ci sono le due conferenze perché c'è pure la conferenza di calzone perché poi tu comunque la regata diciamo quella la devi fare è obbligato e come si vocifera che probabilmente il nostro Presidente sta pensando di vendere le conferenze e quindi diventeranno in esclusiva io poi non lo so se avrò ancora la possibilità di commentarle o comunque farò inventarmi qualche altra cosa mi sono fatto di vendere conferenze perché già qualche club negli anni addietro vendeva l'esclusiva delle conferenze e mi era vietato mi era vietato adesso non lo so come come sa chi lo sa se qualcuno le comprerà poi può darse pure che qualcuno compra le esclusive e comunque la posso far vedere la posso far vedere lo stesso perché tanto io comunque vado indifferita lo vado in contemporanea che posso danneggiare comunque a parte queste cose burocratiche perché non vi pensate che qua è tutto pizze e pichi è tutto gratis tutto gratis su questo canale è gratis voi potete io non dico iscrivetevi pagatemi l'abbonamento oppure che ne so patreon o cose no io non dico niente io voglio è tutto gratis voglio comunque andiamo avanti voi mettete il like iscrivetevi però altrimenti io devo parla che burrattini qua e che facciamo comunque ragazzi a domani sera è sempre Forza Napoli Forza Napoli Forza Napoli Forza Napoli Forza Napoli